Una buona idea, Massimo è coltanto a Papacchini, su un voto, un fatti rapide, di Leonardo Gianni, un annuto davide, tolentito Dario. Buono Massimo! Dai! L'ultima chiamata sul podio, un fatti rapide di Leonardo Gianni. Tira di collo, i ganci, metti i ganci! Tira a terra! Stilo! Stilo! Ecco adesso lo tiene lui! Buono! Buono! Forza! 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 ma il tempo si andava no? scroll Grazie a tutti.